ehi la salve a tutti ragazzi eccoci qua ritornati di nuovo su gta 5 allora proseguiamo questa puntata allora oggi faremo un po' michael giusto si proveremo qualche sua messenzina tanto prendiamoli una macchina quella blu è più bravo ma sono brutte piuttosto andiamo in mezzo alla strada magari senza farsi prendere sotto questo bm è una specie di pm bmv allora adesso per fare le cose scusa scusa per fare le cose fatte bene vedi la m su radar è la casa di michael da là prendi le sue questione le sue emissioni vediamo cosa c'è da fare sono assicurato successo di macchina intanto io controllo si si controllo che registra tutto bene e sei vivo si 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 ho fatto un'acrobazia a fondo e adesso come torno adesso adesso arrivo a casa di michael in qualche ponte su pa' il ponte qui eh ma però non lo to' no 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 contro mano si si vediamo contro mano si vedetevi senti in mezzo Oh no, ma f*****o, ma non lo f*****o, no. F*****o? Ehi. Io vedo alcuni bambini con te! Ah, sostanzialmente impara a guidare. Eh beh, ma noi sappiamo già guidare, giusto? Sì, sciccola, adesso non si vede. Ah beh, ovvio! Mi sa che... Mi piace, mi prenda a mano. Sì, sì, scusa, non volevo. Siamo quasi arrivati a casa di qua. Andrei dal parrucchiere. Ma è meglio di noi. Eccoci, abbiamo toccato il parrucchiere. Dobbiamo fare le sue missioni. Oh my God! Oh my God! Ecco qua, ecco qua la villetta. Sì, 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 sì. Oh my God! Ok, mi porta tutto in regolare. Questa è casa mia. Mi ha permesso. No, la macchina... Questa è il rifugio di Michael. Ok. La macchina la lascio in mezzo. Sì, quel cofano per terra. Sì, sì. Tanto qua abbiamo il backup del backup. Che non serve. Entriamo dentro casa. Yeah! Sanguinante che sto morendo tipo. Sì. Incazzato nero ovviamente. Eh, parecchio incazzato nero. E si fa scena. Sei una dittatrice del cazzo. Oh Dio. Le donne quando fanno barruffa. Tanto lui... Si beve il suo drink. Si fuma la sua sigaretta. Si ascolta... No, il toscano si fuma, no? La sigaretta. Cosa si ascolta? Stupida puttana. Oh yeah! Copierai. Eh, speriamo di no. 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 Eh ciao. Ah, ha fatto una battuta e lui gli ha creduto. intanto ci sono le moto che passano sul gioco che sono un suono corribile questo è un gioco no il casto sì che c'è capito tutto sembra che si sia drogato no è rilassato tranquillo con il suo drink con il suo cannone sei uno spasso sei uno spasso si è mi segue ok prendiamo la macchina di amanda la missione non vedi da non rovinare anche questa tanto un palo questo scusa no stava cercando di vendere la barca si sono presi la barca e si sono presi i soldi adesso non deve sistemare le cose giusto che figlio di piccino ti sembra il modo di fermarsi gli stori si col rosso di barca ci si sente o no 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 thank you no 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 go ok ok man eu thought you would be tire why the fuck do I want to impress some slip away mother fucker maybe help you eh eh oh scusa volevo volevo capire E' un po' di macchina E' un po' di macchina Allora Oh 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 Mamma mia la mia barca Oh my god E' un po' di macchina Esplode Oh scusa E' un po' di macchina E' un po' di macchina E' un po' di macchina Ma come cazzo ha fatto? Vabbè Vabbè Oh my god Devi prendere il controllo dell'altro Oh sii Non mi ricordo più Stanno sparando Liberati E' un po' di macchina E' un po' di macchina Ah Ok Pensavo che dovessi Prendere il controllo dell'altro E' un po' di macchina E' un po' di macchina si stanno stanno litigando qui lì sopra no lui ok si 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 è il tipo della quelli si 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 te è figlio questo? si boh lo ho preso Cosa c***o è vero con te, figlio? Ehm... Sì, sì, lasciate il fatto Adesso è da fermare il camion, no? Non mi ricordo No, credo che devi far... Sì Adesso? Devi recuperare la barca, suppongo Eh, me lo auguro Anche perché vuoi perdere No No Uuuuuh Ora, questo non... ... ... ... Adesso mi giro Ma posso girare anche qua? Eh no, c'è il muro, non posso girare Eh no, ritorniamo indietro Tant'altro abbiamo salvato il figlio È solo una cosa, ragazzi Porca parli di farlo! ... 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 lui ... ... ... ... ... ... Grazie a tutti. 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 Siamo arrivati dal meccanico. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Noi facciamo i bastardi. La chiudiamo qui? Chiudiamo qui questa puntatissima e vi facciamo vedere alla prossima puntata come si aggiustano le macchine. Allora alla prossima puntata aggiusteremo la vettura e vedremo un po' il tutorial come usare i meccanici e colorare le auto e spero che questa puntata vi sia piaciuta come le altre spero almeno. Ciao a tutti.